il destino era già segnato, il copione della sua vita non esistevano trucchi, non esistevano ostacoli, lei doveva arrivare doveva arrivare poi continuo a fare delle particine e l'abbiamo vista anche in film famosi con registi famosi Laferlini, Ginger Roger per passare a Verdone in lì alcuni film dove appariva bellissima nelle sue, non dico nudità ma nel suo splendore per arrivare poi nel 1986 al grande passo del cinema Hard in quanto lei aveva scritto già qualche anno prima nel suo diario questa frase anche oggi ho fatto l'ennesimo provino, se le cose continuano così io a 25 anni smetto e faccio Hard leggendo questa frase potrebbe stiamo al 1986 giusto? sì 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 l'inizio di Moana Pozzi con l'Hard però ci ritorniamo subito per chi dovrebbe dare la linea in questo momento alla regia perché purtroppo incombe la pubblicità sennò i nostri amici sponsor non ci permettono più di portare avanti la nostra trasmissione la linea va a Giuseppe e Matteo in regia per la pubblicità e poi subito dopo però io attaccherei una canzone che io ho scelto appunto per il genere noi scegliamo un solo artista per la puntata come colonna sonora della puntata appunto che andiamo a presentare andiamo a condurre e praticamente in questa puntata ho scelto Fabrizio De Andrè mai nessun forseccanto autore può rispecchiare meglio di di lui anche il compianto tra l'altro Fabrizio De Andrè è morto sicuramente Fabrizio De Andrè no? penso di sì perciò no perché prima mi ha corretto subito penso di sì pure il figlio potrebbe essere lì vicino cioè mazza come è cattivo Brunetto però comunque il presidente Fabrizio De Andrè rispecchia chiaramente incarna perfettamente quella che era un po' quello che era il pensiero forse di Moana un po' come dire la filosofia appunto di Moana quella che in qualche modo condannava l'ipocrisia spesso poi che faceva da scudo a invece comportamenti illeciti e immorali o almeno amorali per quanto riguarda alcuni personaggi perciò non ricordiamo Fabrizio De Andrè quando c'è stato in Genova il concerto in suo onore a fianco alla signora impellicciata della Roma bene c'erano 200 emarginati della città vecchia di Genova perciò proprio perché Fabrizio De Andrè forse dava molto risalto a quella che erano tutti gli spaccati sociali appunto che andava ad analizzare con grande capacità e impegno e perciò a questo punto io ho scelto Fabrizio De Andrè anche perché genovese Moana in qualche modo io devo dire che è originale di Ovada provincia di Alessandria però effettivamente Alessandria è a ridosso della provincia di Genova Moana Pozzi è nata a Genova però lei ha sempre vissuto poi a Ovada Moana Pozzi è nata a Genova il papà Alfredo Pozzi è nato a Genova la madre era di origine di Lerma provincia di Alessandria però loro hanno girato il mondo cioè Moana non ha mai conosciuto Lerma ha conosciuto più Genova poi ha conosciuto paesi americani ed è vissuta più a Roma diciamo che allerma perciò Fabrizio Andrenzo insomma incarna la città rappresentante di emblema diciamo della Genova musicale perciò può fare la corona sorora perfettamente a questa puntata e partiamo la pubblicità un po' scusa ero un po' in ritardo però avevo da fare questo preambolo e poi ci ascoltiamo dopo Bocca di Rosa che poi è la canzone forse che celebra l'amore più di ogni altra appunto nella storia della musica italiana dedichiamo poi a Moana Pozzi questa canzone chiaramente grazie questo applauso naturalmente era per Fabrizio e Andrè perché il concerto era dal vivo la canzone non erano gli applausi ai nostri radioascoltatori oppure il pubblico qui in studio e torniamo ancora a parlare praticamente entriamo nel vivo della nostra puntata insomma torniamo ancora dopo aver ascoltato questa bellissima canzone Bocca di Rosa appunto di Fabrizio e Andrè torniamo ancora a parlare con Brunetto Fantauzzi e Loretana Bontempi sul praticamente sul Moana Pozzi appunto e Brunetto scusatemi Brunetto tra l'altro Loretana sta qui con 3.000 fogli insomma si si mi documento sta documentando perché veramente la documentazione che sta compiando la disamina dei documenti di Brunetto Fantauzzi Loretana è il nostro notaio il nostro notaio perciò il nostro notaio ufficiale è stato nominato proprio da Brunetto in diretta su Radio Roma e praticamente adesso stiamo parlando invece dell'86 Brunetto mi sembra allora arriva all'86 lei prima appunto aveva scritto nel diario pagina del diario pubblicata un po' dappertutto oggi dove dice se a 25 anni non ho raggiunto l'obiettivo io smetterò e farò altro allora due cose uno poteva pensare che altro significava magari andare a fare la segretaria oppure qualche altro lavoro e il secondo concetto era che lei diceva la donna deve sfruttare la fortuna sulla quale siede per cui una filosofia tutta sua che poi appunto lei aveva scritto con me un libro che si chiamava appunto la filosofia di Moana dove c'era un po' il Moana pensiero allora lei arriva al porno nel 1986 e da lì ha fatto dei film è andata avanti ma la cosa importante è stata quando grazie al libro che ha fatto con me grazie ad altre situazioni Moana è stata ricordiamo il libro il libro si chiama appunto la filosofia di Moana perfetto dove tra l'altro pagellizzava e parcellizzava i suoi amanti personaggi dell'Italia bene ma personaggi di grosso calibro presidente del consiglio ma gli amanti veri non stanno lì dentro perché Agnelli o poi era un suo amante e lì dentro non c'era ed altri ancora Kissinger era il suo amante lì dentro non c'era c'era soltanto Craxi e Craxi poteva essere un po' un escamodage qualcuno l'ha definita la prima killer di Craxi in quanto il libro è uscito fine dicembre 1991 la criminalizzazione del partito socialista della democrazia cristiana e quindi e di Craxi stesso c'è stata a fine gennaio 92 cioè un mese dopo solo un mese dopo il libro di Moana significa questo che è stato un messaggio che è stato un messaggio politico o un messaggio un po' più particolare come oggi si dice che Moana facesse parte anche di certi servizi segreti attorno a Moana c'è un mistero un mistero grande allora lei viene sdoganata dicevamo nel 1991 lei passa dai set a luce rossa e ai set televisivi bene ai salotti bene le signore le cosiddette regine dei salotti romani invitano Moana Pozzi come se fosse la lady la first lady lei passa alle trasmissioni televisive più importanti lei sfila per Chiara Boni lei sfila per Fendi lei sfila per le più grandi per le major della moda italiana e internazionale l'Hagerfeld quindi chi chi conosceva Moana in quel periodo conosceva non Moana in quanto la porno star Moana personaggio Moana personaggio a tutto campo a 360 gradi una mattina che siamo andati in tribunale per depositare i documenti di una testata nell'entrare in questo nelle aule quando uscivamo nei corridoi si formava una ola di persone come due ali di folla che ci facevano passare e ad un avvocato un po' più impertinente degli altri che si permise di dire buongiorno Gerola Moseghetti vabbè avvocato penalista lei disse siamo ugualici perché lei pensa alle pene e io al pene quindi a un certo punto una donna di spirito una donna che sapeva fronteggiare chi aveva di fronte Brunetto e allora a questo punto tu parlavi di fatto che sia stata sdoganata secondo te dall'85 al 91 Moana non era un personaggio e diventa personaggio dopo dopo il 91 ha cominciato a diventare personaggio dopo il 91 è entrata in politica dopo il 91 ha avuto i contratti importanti della sua vita lei prendeva in Italia perciò quel successo che poi ha portato a mitizzare il personaggio di Moana è la seconda fase è dovuta alla seconda fase perciò non è legato al porno